Sant'Anna se n'è andata, ora tocca a Santa Chiara. Con l'amministrazione Pavan Bassano del Grappa non è più una città per le sante, già perché il 31 luglio era la data ultima posta dalla Fondazione Cari Verona al Comune per la presentazione di un progetto relativo al polo museale di Santa Chiara. La data è arrivata ed è la progettazione necessaria per il mantenimento del contributo della Fondazione, nessuna traccia. Nonostante gli annunci di Gran Carriera di maggio e una scadenza molto chiara, si rischia che vengano chiusi i cordoni della borsa contenente un bel gruzzoletto di qualche milione di euro. E tanti saluti anche a questo progetto. Proprio oggi, 31 luglio 2020, scadeva il termine per presentare una soluzione a Fondazione Cari Verona. Fondazione Cari Verona è il primo quasi esclusivo finanziatore di questo progetto, le polo museale Santa Chiara. residuano su quel finanziamento 5 milioni rotti e Fondazione era disponibile a mantenerne in gioco comunque una parte importante, nonostante i fallimenti, le proroghe. Già, le proroghe e le proroghe hanno un limite, esattamente come la pazienza della Fondazione. L'amministrazione comunale non ha presentato a Fondazione nessuna soluzione alternativa, nessuna via di uscita in qualche maniera a una situazione molto complessa. ci ha risposto che comunque il dialogo con questa Fondazione rimane aperto, io me lo auguro però ho paura che Fondazione presto chiuderà le porte e parallelamente hanno stanziato 150 mila euro per rivedere il progetto. Quello del polo di Santa Chiara pare destinato a diventare l'ennesimo scivolone dell'amministrazione di Elena Pavan. Prendo atto che l'azione amministrativa di questa amministrazione nel giro di un anno sta infilando dei fallimenti purtroppo molto significativi in senso negativo e rischia di far perdere alla città di quanti noi dei treni molto importanti.